Io vorrei chiamare nuovamente qua sul palco il direttore Navaglia per commentare anche insieme per chiederle un parere direttore benvenuto innanzitutto nuovamente per chiederle un parere riguardo a quanto abbiamo ascoltato. Sono stato attraversato da diverse situazioni, la prima di dispiacere, di dispiacere di non essere giovani come quelli che sono qua, 400 giovani questa sera e di queste aziende, questi ragazzi che hanno presentato queste idee, l'altra di grande responsabilità, un filo che mi pare abbia accomunato tutte le iniziative che presentate è quello di fare sì business, perché dobbiamo creare delle aziende che si mantengono, che creano valore per chi le crea e per chi ci lavora ovviamente, ma nel fare questo mi pare che tutti abbiano anche pensato alla società, al prossimo, alla comunità e quindi con un'idea di lavorare non solo per sé, che ripeto è assolutamente doveroso, ma anche per l'ambiente, per l'ambiente voglio dire non soltanto inteso come località ma anche per le persone. In alcuni casi anche mi sono emozionato perché ho davvero sentito progetti davvero straordinari, quindi alla fine però mi sono un po' entusiasmato, sentendo dei progetti così importanti, mi sono entusiasmato per conto dei giovani che sono qui questa sera, perché credo che dentro di loro ci possono essere dei talenti come abbiamo visto in questi ragazzi, che quindi potrebbero, possono sviluppare in futuro. Io davvero voglio ringraziare non per dovere le cinque beautiful mind perché a me hanno dato una lezione e credo che siano di esempio, possiate essere di esempio anche a questi ragazzi. Grazie di essere venuti a Bologna, grazie davvero.